Ciao ragazzi dall'angolo del carbonaro qui al barbecue paradise rappresentativo di tutti i barbecue paradise ecco a voi è tornato il miglior carbone al mondo noi trattiamo tanti carbonio ognuno ha le sue caratteristiche questo in particolar modo è non solo il mio ma il nostro carbone preferito per i motivi che andiamo ad elencare innanzitutto vi volevo far vedere partiamo dalla pezzatura è un carbone di buona pezzatura a sentire il peso è abbastanza denso quindi è un hardwood è un legno duro la caratteristica che ha questo carbone che non ha nessun altro è che comunque è il carbone di mogano messicano è difficilissimo trovare dei carboni di mogano il mogano già è un legno quando è in legno che con un altissimo potere calorifico è una combustione molto lunga fatto a carbone mantiene inalterate queste caratteristiche quindi è di base un carbone dalle altissime performance e va bene per i kettle per i bullet smoker per i barrel per i camado insomma va bene per tutte quelle griglie che utilizziamo e che vendiamo normalmente qua è logico che è un carbone che ha un costo leggermente superiore alla media quindi non avrebbe senso in un griglione aperto dove si aprono sacchi e se ne butta ma magari si sceglie un carbone più corto più economico ma al di là delle caratteristiche tecnico termiche che si possono trovare magari anche in altri carboni tipo il chebraccio di best charcoal come durezza come lunghezza della combustione la caratteristica principale di questo carbone è il profumo tutti quelli che lo hanno provato negli anni a cui gli abbiamo venduto rimangono fedeli al betterwood perché in un ambiente chiuso siamo al punto che addirittura non bisogna usare chunks, chips e altri ammenicoli per dare un buon flavor alla carne voi sapete che qua noi puntiamo molto al fattore organolettico che conferisce il carbone al cibo il carbone non è solo un combustibile deve essere utilizzato anche come odore, come profumo, come spezia aggiunta in questo il betterwood è impareggiabile perché dona alla carne un colore rosso intenso uno smoke ring definitissimo e un profumo rotondo, morbido, bello, invitante in assoluto per me è il miglior carbone al mondo se non l'avete ancora provato non potete dire di conoscere il carbone